La storia dei navighi, la vicenda dei navighi, quindi io ringrazio molto Ennio perché io ho lasciato con lo suo istituto dei navighi, con lo sforzo continuo, ha conseguito di mantenere forte il segno della potenza dei navighi realizzato a non dimenticare. Ora, Andrea Cassone, si ci introduce il tema, come dei più attraenti in questo progetto, che è il rapporto con amici, con l'università statale, con la scuola, con la Stata, dove c'è stato un fondimento molto importante. Grazie.